collega ho trovato la macchina che mi serve si seconda mano ottime condizioni e chiama scusa e non posso chiamare perché sta nome cognome indirizzo però non ci sta il numero di telefono e nome il cognome sta che ha un servizio abbonato dimmi senza di me sei perduto pronto senta un'informazione volevamo il numero di telefono del signor luigi rossi luigi rossi via tuturano bari bari via tuturano 13 13 va bene vabbè la ringrazio arrivederci devi chiamare a metà dicembre per prendere la macchina sono stati chiari non è che dici devo dire per prendere la macchina ma è detto che un'altra